Buonasera, ben ritrovati al Tg11. Iniziamo con Biassono dove venerdì intorno alle 6.30 del mattino una trentenne residente in città è stata travolta da una moto pirata mentre attraversava le strisce pedonali di via Cesana. La donna è stata trasportata all'ospedale di Monza dove gli è stata diagnosticata la frattura di entrambe le gambe e la lussazione di una spalla. Ci spostiamo a Verano Brianza dove lo scorso venerdì la guardia di finanza e i carabinieri del comune di Seregno hanno effettuato un sequestro di capi d'abbigliamento contraffatti per un valore complessivo di circa 50.000 euro. L'operazione ha interessato la zona del Saturn che sorge lungo la statale 36. Durante la retata le forze dell'ordine coadiuvate anche da un elicottero hanno arrestato circa 20 senegalesi dei quali alcuni sono stati portati in questura perché irregolari. Andiamo a Giussano dove presso il locale cimitero nella parte riservata a Birone sono stati rubati 10 parapetti di rame di grosse dimensioni. Inoltre i luoghi di accesso al cimitero sono presidiati da zingari e nomadi che chiedono insistentemente somme di denaro alle persone che entrano ed escono dal Campo Santo. Veniamo a Vimercate dove domani mercoledì 7 dicembre a partire dalle 17.30 il cinema multisala The Space proietterà in diretta dal Teatro alla Scala di Milano la prima stagionale il Don Giovanni di Mozart del Teatro milanese. Per maggiori informazioni e prenotazioni visitare il sito web www.thespacecinema.it Concludiamo ricordando le farmacie aperte questa notte martedì 6 dicembre nella provincia di Monza e della Brianza. Per il distretto di Brugherio sarà aperta la farmacia comunale 10 di Monza via Mazzotti 36 nel distretto di Carate Brianza la farmacia Bellotti di Verano Brianza via Preda 4 nel distretto di Bovisio Masciago Cesano Maderno Limbiate Varedo aperta la farmacia Ceccolini di Bovisio Masciago piazza Anselmo 4 7 nel distretto di Desio Nova e Muggiò la farmacia Galbiati di Desio via dei Partigiani 2 nel distretto di Lissone Sovico Maccherio la comunale 10 di Monza in via Ramazzotti 36 nel distretto di Meda Lazzate Seveso la farmacia comunale di Copreno frazione di Lentate sul Seveso statale dei Giovi 243 nel distretto di Monza e Villa Santa aperta la comunale 10 di Monza via Ramazzotti 36 nel distretto di Seregno e Giussano la farmacia Sant'Agostino di Seregno via Trabattoni 41 nel distretto di Vimercati aperte la farmacia comunale 2 di Concorezzo via 25 aprile 25 e la farmacia comunale di Villanova frazione di Bernareggio via San Bartolomeo 1 queste informazioni sono state gentilmente fornite dall'associazione Lombarda farmacie che ringraziamo grazie dell'attenzione appuntamento al prossimo tg 11